La scala del tempo del favore, i capitaliani, io sto a vedere e prendere, pagare e copia, si seguite gli avventuri. Governo del... Liberta! Liberta! Il voto di più di Saviano è il centro della campagna. Liberta! Liberta! Noi vogliamo libertà! 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 Dimissioni! 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 Siamo tutti i ragazzi, ci stiamo organizzando per fare dei coordinamenti regionali, faremo una maniera... Il problema riguarda tutti, e per questo non ce la devo dire che non è scoperto. Stati del tempo Italia, la società è che le problematiche principali del nostro...